Le concessionarie delle autostrade italiane rischiano di dover pagare svariati milioni di euro di multe per i marcati interventi di manutenzione lungo i tracciati. Una procedura di infrazione in questo senso è stata infatti avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Le sanzioni in particolare riguardano il mancato rispetto di una normativa europea del 2004 circa l'adeguamento delle gallerie a nuovi standard di sicurezza. Il problema è particolarmente sentito in Liguria dove sono ben 48 i tunnel presenti sui vari tracciati autostradali. I dati sono contenuti in un dossier del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pubblicato da Repubblica e inviato ad Aspi, Gabio e Anas. In particolare Aspi, società collegata a Gruppo Atlantia dei Benetton, rischia una sanzione da 5 a 15 milioni di euro e anche se al momento non sono state ancora combinate sanzioni, la relativa procedura è stata avviata. L'organo del Ministero, secondo quanto riferito da Repubblica, per mitigare il rischio all'interno dei tunnel in attesa dell'adeguamento alla normativa europea, ha ordinato di limitare la velocità, aumentare la distanza minima tra i veicoli, vietare il sorpasso e il transito di mezzi che trasportano merci pericolose. Le gallerie Liguri, finite nel mirino anche delle indagini della Procura di Genova, riguardano in particolare la tratta gestita da Aspi Autostrade per l'Italia. Grazie a tutti.